Allora abbiamo un mazzo di carte Bicycle Mi devi dire stop dove vuoi Va bene qua? Sì va bene Ok Adesso spostiamo la carta così in questa maniera verso avanti In maniera che rimane a vista Facciamo un gesto magico in qualche maniera così Piano piano E' come se dovessimo dipingere la carta così Di bianco La carta diventa bianca così E' un gesto magico Le carte diventano tutte quante bianche Quella è una cosa straordinante Che vediamo tutte le carte bianche Ma la cosa strana è anche dietro Solo una carta vi è stampata E tutte le altre sono tutte quante bianche Ok? Che ci faccio con una carta stampata E con un mazzo di carte bianche Basta fare così E per magia diventano anche queste bianche Adesso mettiamo così E mostriamo come tutte le carte sono assolutamente bianche Dalla carta e anche dall'altra Basta fare un gesto magico però in questa maniera E come per magia le carte ritornano assolutamente normali E come per magia le carte bianche